In questo video vediamo come collegare l'android smartphone con la video intercom grazie alla applicazione di sicurezza HomePlus. Prendete la sicurezza HomePlus da Google. Se hai già un'account, log in o creare un nuovo. Segui i passaggi di configurazione e scegliere PtCino e Class 100X16E. Procedete con la configurazione. Ora usate il joystick per entrare il menu di settimana e attivate il wifi temporale. Dopo alcuni momenti un codice QR apparirà sul monitor per essere scannato. Questo è usato per certifichere l'app video intercom connessione. Ora indicate il wifi dove vuoi il video intercom connesso e, se necessario, entra il password. Qui c'è un passo cruciale. Per completare la procedura di configurazione e certifichere la connessione, il smartphone deve temporale cambiare al wifi creato dal video intercom. Aspettate un momento. Aspettate un momento. Aspettate un momento. Aspettate il video intercom. Aspettate il video intercom. Aspettate un'adressa IP dal network di wifi casa. Aspettate l'applicazione. Aspettate tutti i vari parametri. Aspettate. Aspettate il risultato. Grazie a tutti.